La storia della logina, detta alla fine del mondo dagli addetti ai lavori, è la storia di una lampadina, una lampadina raccolta da Gio Colombo sul mercato che portò in azienda e raccolse attraverso diverse prototipazioni il suo involucro. L'involucro era nato dalla forma di una mano, doveva racchiuderla e proteggerla e così illuminando l'ambiente circostante sostituire quella che era la classica illuminazione del tempo. Abbiamo creato così, con la prima logina, una progenitrice di tutta questa serie, da cui tutte le altre sul mercato ne hanno preso spunto. Le comunicazioni fanno sì che questo mondo diventi sempre più veloce e così ci sarà meno bisogno fattivo di presenza del designer, ma sicuramente la collaborazione dovrà rimanere molto forte e molto sentita per sentire nel particolare l'unicum di ogni nostro prodotto.